Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Carpi Monsignor Francesco Cavina. Monsignor Cavina, da non confondere con il nostro provicario generale, appartiene al clero della Diocesi di Imola. 56 anni, sacerdote da 31, è stato per 4 anni vice-rettore del seminario regionale di Bologna. Dal 1996 era ufficiante presso la Segreteria di Stato, sezione rapporti con gli stati. Era anche giudice presso il Tribunale Ecclesiastico di Bologna. Monsignor Cavina succede al bolognese Monsignor Elio Tinti, che ha presentato al Santo Padre le dimissioni al raggiungimento dei 75 anni.